ciao a tutti io sono Octopus e benvenuti a un altro episodio della guida per i tieri intermedi oggi siamo con il Farragut, passato il premier di livello 6 americano come potete vedere siamo contro i tier 8 e c'è anche una portale tier 6 contro di noi quindi sarà una partita interessante come sempre ragazzi se non l'avete già fatto iscriviti al canale per supportarmi lasciate un commento e un mi piace se volete condividete il video con i vostri amici e vi lascerò come sempre il mio link al canale twitch e al discord in descrizione se volete fare un salto siete benvenuti e niente allora il Farragut è un cacciatore periniere un po particolare perché come il Clemson e anche il Nikolas il tier 4 e il tier 5 il Farragut ha un mimetismo massimo di 6 km a 6 ma ha una portata al massimo di siluri di 6 km a 4 questo vuol dire che come i suoi predecessori non può silurare da invisibile e questo è solitamente un grosso problema quindi uno dice ma come faccio a usare i siluri se non posso lanciarli da invisibile il Farragut è un eccellente destroyer un eccellente cacciatore periniere da imboscata da dietro le isolette quindi dovete giocare dietro le isolette inoltre il Farragut come tutti i destroyer americani è un ibrido nel senso che ha un discreto potere di fuoco con i siluri chiamiamolo così ma ha un ottimo potere di fuoco con i cannoni soprattutto a distanza ravvicinata perché ovviamente come tutte le navi americane anche i destroyer americani hanno questo colpo a palombella che in questo caso essendo il calibro dei canoni molto limitato 127 mm la parabola è estremamente accentuata quindi farete tantissima fatica a colpire bersagli anche sopra i 9-10 km con questo con questo cacciatore di mire i siluri ne avete avete due lanciatori da quattro non fanno tantissimo danno 11.700 ma a tier 6 non è pochissimo quindi non è male fate 38,3 nodi di velocità massima con la bandierina se aggiungete l'8 per cento come in questo caso con la con il consumabile del motore aggiungete 41.3 nodi che tutto sommato non è male i siluri ricaricano in 79,2 secondi se prendete esperto di siluri come come skill del capitano e quindi come si gioca il farragut il farragut è un eccellente destroyer da supporto per esempio se avete insieme a voi un altro cacciatore di nere per esempio un cacciatore di nere giapponese che ha un ottimo mimetismo e andate insieme dentro un cap lui spotterà il cacciatore di nere nemico prima diciamo nel senso e se voi siete un chilometro dietro di lui potete dargli un ottimo supporto con i cannoni non siete un cacciatore di nere che tendenzialmente va da solo a contestare il cap questo in questo caso particolare mi vedete andare molto aggressivo su questo cap perché il kid è spottato come potete vedere nel settore di d6 e sappiamo che ci è contestato quindi presumibilmente dall'altro destroyer che viene spottato appunto adesso in b8 quindi so che non c'è nessun cacciatore di nere che c'è in a e quindi sfrutto l'occasione per avvicinarmi a queste due isolette che vedete in settore di g3 ed f3 fondamentalmente perché voglio fare un'imboscata a queste due gneisano che non sembrano proprio così svegli come giocatori questi due come potete vedere non potete vedere vabbè comunque questi due giocatori della colla gneisano sono in divisione tra di loro e secondo me questi qua stavano pensando di fare la furbata sulla mia bismarck gneisano se avete visto i commenti dei precedenti sapete che è una nave che eccelle nel combattimento ravvicinato perché i siluri volete usare i siluri quindi per usarli si devono esporre ma noi tenteremo di fare in modo che paghino un caro prezzo per questo questa loro esposizione se gneisano non sembra essere mi sembra avvedersi del rischio di fare questa manovra e quindi noi lanciamo i nostri siluri tranquillamente da questo facciamo esattamente un imboscata come potete come potete vedere quattro siri non sono stati sufficienti a tirarla giù ne servono sei per tirarla giù una grazia full vita e quindi sì non abbiamo potuto fare un colpo devastante solo con una salva quindi adesso dobbiamo aspettare un minuto buono per avere ancora i siluri in questo senso sì non possiamo esporsi troppo con questa gneisano il compagno di divisione di quello che abbiamo tirato giù e quindi usiamo il fumo farragut come tutti i destroy americani ha un fumo molto lungo nel senso che la durata di erogazione la durata del fumo è estremamente lunga su intorno ai due minuti non mi ricordo esattamente il valore esatto possiamo guardare in importo questa distanza usiamo le ap come sempre anche nei cassero pediglieri non abbiate paura di usare le ap anche sulle corazzate da queste distanze molto ravvicinate mirate per l'armatura superiore e vedrete che se sono completamente di brozza e lavoro di fianco potrete avere dei buoni successi qua ripassiamo con l'ha e perché pensavo che la gneisano rallentasse quindi ho lanciato sicuri un pochino sulla sulla destra c'è anche il pericolo di venire i sicurati della gneisano quindi dobbiamo stare attenti anche in questo senso la gneisano si mangerà soltanto due sicuri quindi non sarà sufficiente per buttarla giù però comunque comunque viene timbrata da qualcun altro dal mind in questo caso siamo radati dal cleveland questa era un'opzione e questo è il motivo per cui mi ero già portato in questa posizione di per poter scappare eventualmente quindi come avete potuto vedere la tattica del dell'imboscato sul fargo è vincente soprattutto quando siete contro i tier 8 non potete competere né in quanto ad hp né in quanto a potere di fuoco con la stragrande maggioranza dei destroyer di tier 8 o 7 quindi vi dovete dovete vi dovete basare soltanto sulla tattica dell'imboscata giocando dietro le isolette perché in mare aperto fate tantissima fatica non potrete non sarà non sarete in grado di fare assolutamente nulla qui in questo caso io non sto spottando il cleveland e la york sappiamo che il cleveland ha già usato il radar dato poco fa quindi non abbiamo abbiamo questo pericolo non stiamo correndo questo pericolo di essere radati nuovamente almeno nell'immediato e quindi mantengo lo spotting su questi due per il mind e idealmente per l'ambismo che però è andata giù da qui in elisabeth non penso che riuscirà a fare tantissimo ma questo minds sembra un buon giocatore vedo che riesce a fare dell'hate in maniera abbastanza consistente sul cleveland quindi continua a mantenerli spottati ovviamente sempre con un occhio al raggio di spottabilità 6,6 non vogliamo essere troppo vicini qua stavo anche pensando che questa york potesse caricare le isolette per fare una manovra simile alle kneisen o contro la queen elisabeth quindi mi stavo cercando stavo cercando di capire che cosa stava facendo questa york se fosse venuta dritta verso di me avrei potuto lanciarle i siluri e vedere che cosa se potevamo cavarne qualcosa di interessante ma quanto pare questa york sta semplicemente girando completamente virando e quindi non saremo in grado di farle di lanciare i siluri qua mettiamo la p appena sparato ed è anche un po distratta quindi mettiamo la p come potete vedere 2200 di danno non è malissimo qua non salva un po sfortunata adesso si sta angolando quindi dovremmo ripassare con le h e non l'ho fatto per pigrizia però pazienza e comunque un pochino di danno su questa york che non fa mai male e allora vediamo un po la partita abbiamo preso a abbiamo preso b abbiamo perso c però abbiamo delle navi la che stanno facendo il loro lavoro stanno ritardando il nemico nel senso che stanno stanno rallentando nella loro discesa verso b quindi abbiamo tutto il tempo di prenderci cura di questi due imbracciatori quindi il farragut è una nave eccellente come abbiamo detto se si è giocata intorno alle isolette non non pensate di andare in mare aperto e sparare alle navi a meno che non abbiate una copertura di un'isola per cui riuscite a sfruttarla come in questo caso vedete c'è un isoletta io mi apposto qua dietro sfrutto la mia parabola è estremamente accentuata dei dei colpi per provare a fare qualche danno su questa su questa york qualche danno extra perché non è mai una brutta cosa e riusciamo a timbrare la york diamo una mano al nostro main c'è la nostra queen elisabeth e adesso riprendiamo la nostra marcia l'idea qua è sfruttare il cleveland che è l'unica nave rimasta nel su questo fianco al fianco sinistro in pratica e intanto andiamo ci portiamo verso di nel frattempo perché vogliamo sfruttare ancora le isolette che vedete nel settore di d5 e di 6 perché probabilmente le navi nemiche a un certo punto credo almeno che verranno verso verso b o ci proveranno quantomeno se non muoiono tutte quante prima e quindi sì vogliamo essere pronti a fare delle ancora delle imboscate possibilmente per lanciare i nostri siluri quindi come si giocano i destroyer americani di tier basso diciamo 4 5 6 in questo modo giocando intorno all'isolette sfruttando i cannoni contro altri destroyer se potete se vi trovate contro gente di tier più alto del vostro allora semplicemente giocate intorno all'isolette fate attenzione alle alle ai raggi delle idroponiche nemiche e ai radar se ne hanno perché possono con cogliere di sorpresa ma questo è il loro modo di giocare dal man il tier 7 in su poi benson flacere quant'altro i vostri siluri avranno un raggio maggiore del vostro mimetismo quindi potete lanciare i tra virgolette in tranquillità ma fino al tier 6 che questo qua il farragut siete costretti a giocare in questo modo perché non avete ripeto non avete i siluri che sono in grado di cogliere di sorpresa le navi nemiche certamente se le navi nemiche vengono verso di voi allora potete lanciarli anche a che so 7 7 chilometri e mezzo e man mano che la nave c'è vicina i vostri siluri la raggiungeranno ovvio ma sì tendenzialmente direi che non è il caso qua questo cliolan è a pochi hp anche il cliolan non ha dei colpi particolarmente veloci quindi anche lui fa un po fatica a colpirci quindi stavo tentando di prendermi la chile anche sul cliolan ma non è questo il caso pazienza l'abbiamo fatto allontanare ancora un pochino c'è questo grazie che adesso sembra voler venire verso b il che avrebbe a senso dal suo punto di vista perché vuole provare a almeno fermarci uno dei cap non hanno ancora preso cia quanto pare stanno facendo una fatica veramente immane a fare questa cosa e quindi noi sfruttiamo la copertura dell'isoletta per avvicinarci il più possibile al graspe che in teoria ci è occupato a sparare alla gneisen o per esempio quindi noi siamo non ha la sua idroacustica attiva questo un grosso errore probabilmente ce l'ha in ricarica o qualcosa del genere noi li spuntiamo in faccia a 3,5 chilometri non lanciamo sui ancora vogliamo vedere che manovra fa qualche manovra evasiva ci becchiamo un po di danno dalla sottoretta frontale ma il graspe ha anche una ricarica molto lunga dei cannoni quindi non abbiamo particolari problemi lui si gira per spararci in piccolata corretta ma si becca due siluri e ci saluta e questa è la terza chi come avete visto fare imboscate dietro le isolette è quello in cui questo il farago eccelle fondamentalmente tutto il resto farete farete fatica l'antiereo su questo attrezzo come tutti i destroyer di tier medio basso è inesistente fondamentalmente quindi siete cibo per i porteri quindi in questo caso io non rischio uso uno dei miei fumi e mi metto nel fumo perché non voglio perdere altri punti vita come potete vedere i punti vita di questo le storie sono molto limitati 11.500 non sono tanti specialmente quando trovate porteri magari addirittura di livello 8 quindi vi possono tranquillamente girare giù con un paio di di strike di razzetti vi tirano giù tranquillamente quindi non aspettatevi di avere niente di antiaerea potete montare lo scafo c sul farago se non sbaglio e prendere il consumabile della difesa antiaerea invece della velocità ma non è consigliato qua c'è un mogami che intanto un primo errore sta usando i 203 millimetri invece che 155 quindi a un lega che ha molto maggiore quindi non di farci un imboscata ma noi la facciamo a lui io non mi aspettavo quel mogami la che di trovare proprio in faccia uscito dal fumo ma meglio così per fortuna non avere l'idroacustica e non era un mogami particolarmente bravo altrimenti avrebbe potuto tranquillamente tirarci giù con un paio di salve anzi con una sola meglio così per noi comunque quindi risultati di fine partita 135 mila danni 14 silurimi si assegno 4 kg doppio colpo devastante un cap preso in cooperativa un paio di incendi insomma un po di tutto come potete vedere 2200 di esperienza base per un cazzo torpediniere di tier 6 in un matchmaking di tier 8 con una porta aeree direi che è un ottimo risultato distribuzione del danno abbiamo fatto malissimo con la gnaisono il mogami un po' il grashpe un po' la york l'altra gnaisono e i clearan quindi 6 navi in totale non è male non abbiamo combattuto contro altri cazzo torpediniere in questo caso ma di solito fare a botte con i cazzo torpediniere i nemici è uno dei vostri misteri principali come potete vedere la stragrande maggioranza del danno è arrivata dai siluri questo è una partita un po' particolare cioè non aspettate di fare questi risultati mediamente su un faragut però come detto se volete giocare il faragut giocatelo sempre con l'idea di fare delle imboscate da dietro le isolette ogni tanto vi vanno bene ogni tanto vi andranno male perché se trovate quello che ha l'idroacustica o se sbagliate a lanciare i siluri o se avete sfortuna con lo spread quello che volete si vi tireranno giù però insomma fa parte del gioco non sottovalutate i cannoni come potete vedere le api da distanza ravvicinata sulla york e sulla gnaisono hanno fatto il loro lavoro 37 colpi 11.000 per un dd non è male le he insomma 64 colpi di he 8.500 quindi niente di niente di trascendentale abbiamo fatto anche un paio di incendi ma non hanno dato nulla però comunque ricordatevi i casaspedini americani devono usare i cannoni se possibile potete anche mettervi nel fumo e a spammare he se volete ma di solito non è una grande idea perché soprattutto ci si sono porteri in giro volete preservarvi il fumo per eventualmente scappare dagli aerei cioè non venire attaccati dagli aerei e anche il fumo americano è utile soprattutto se giocate in divisione per fare il fumo per i vostri incrostori leggeri che magari possono sfruttare il fumo per sparare da posizioni invisibili questo è un uso del del fumo che spesso i giocatori di destroyer soprattutto di tier basso non si non tengono in considerazione crediti navi di tier 6 guadagni molto limitati non è una non è una nave premium quindi si non vi aspettate niente di strano allora questo è il fada good iniziamo dai consumabili e dei moduli allora come potete vedere no non è vero già solo con lo scafo B si può montare il consumabile della difesa antiaerea lo scafo C vi da una perdete una torretta per avere un po' di antiaerea è una cosa che è rimasta dalle vecchie portaerei no non facelo quindi questo scafo qua non serve neanche ricercarlo ignoratelo completamente perdere una torretta di cannoni per avere un po' di antiaerea in più è assolutamente una cosa da non fare comunque sicuramente qua la via è andare per lo scafo B che vi da un po' più di HP più manovrabilità e anche un miglior mimetismo e soprattutto lo scafo B vi da accesso a questi siduli qua siduli da 6,4 km invece di avere i siduli da 5 e mezzo avere i siduli a 5 e mezzo e sono anche più lenti avere questi siduli qua sono i siduli del Clemson del Nicola sul tier 5 no questi sono siduli pessimi vanno bene per il tier 4 forse 5 ma per il tier 6 siduli a 6,4 km sono diciamo il minimo indispensabile quindi andate prima per lo scafo B poi siduli poi questo se volete ma come abbiamo visto a 11,4 km potrebbe essere già più che sufficiente come raggio perché comunque fate fatica a colpire qualcosa così distante e questo assolutamente non ricercatelo neanche andate direttamente al MAN è una roba completamente inutile lo scafo C qui come detto prendete questo qui l'engine boost la propulsione migliorata la difesa antiera come abbiamo detto non è neanche da prendere in considerazione perché il vostro danno continuo è 48 ok moltiplicate questo qua per quello che vi pare dovreste moltiplicarlo per non so 1000 per avere un un danno anzi sì in senso per 10 per avere un danno quindi 1000% per avere qualcosa di decente non è questo il caso quindi non tenete neanche in considerazione di prendere difesa antiera potenziamenti qua se non avete la bandierina della detonazione prendete questo perché i destroi sono particolarmente soggetti a detonazioni se avete la bandierina allora prendete questo qua per preservarvi i tubi lanciassiluri e le torrette qua se ce l'avete prendete il potenzialmente per il carbone per avere il consumabile del motore prolungato se non avete questo andate per protezione del stanza del motore non so come si dice in italiano scusate engine room protection perché si perdete spesso il timone e il motore per tutte le acaie che vi arrivano addosso quindi prendete questo qui qua prendete questo qua che vi migliora i siluri nel senso la velocità dei siluri e vi riduce ancora di più il rischio che vi vengano distrutti i tubi lanciassiluri e qua propulsione spesso vi metterete nel vostro fumo a sparare o a fare cose quindi se vi lanciano i siluri addosso nel fumo volete essere il più veloci possibile ad accelerare e almeno provare a schivarli avete già una manovrabilità ottima 2,7 secondi di tempo di virata quindi questo è assolutamente inutile prendete la propulsione non parlo neanche di questo perché insomma free destroyer è una completa una completa si è uno spreco capitano come potete vedere ho usato un capitano non particolarmente non particolarmente skillato ha solo 13 punti inoltre è una build molto vecchia quindi questa non è la configurazione che consiglierei non del tutto almeno quindi la prima skill potete decidere tra bersaglio prioritario o manutenzione preventiva io qua ho messo manutenzione preventiva per ancora una volta rimuovere ancora di più il rischio che i miei tubi lanciassi duri e le torrette mi vengano distrutti però potete anche prendere bersaglio prioritario se vi piace di più poi ultimo atto assolutamente questo è su tutti i cazzatepegneri è fondamentale non prendete mai qualcos'altro prima di prendere l'ultimo atto sulla linea dei due punti qua io ho preso sovrintendente ma onestamente la skill migliore è esperto di sopravvivenza perché perché vi da un po' di hp in più quindi non seguite questa cosa qua prendete esperto di spravvivenza e poi esperto di occultamento questo per i primi dieci punti poi altri quattro punti potete metterli su radiolocalizzazione che è un'ottima è un'ottima skill da avere soprattutto su cazzatepegneri con un mimetismo non buono come il nostro quindi volete almeno sapere da che parte è quello che il cazzatepegneri che vi sta che vi sta spottando quindi prendete radiolocalizzazione con i 14 punti poi con altri 5 punti potete prendere qua la scelta è vostra potete prendere o esperto di siduri per avere una migliore di carica potete prendere sovrintendente o addirittura esperto di demolizioni se intendete portare questo capitano fino al tier 10 il gearing secondo me potrebbe essere una buona idea prendere o sovrintendente o esperto di siduri probabilmente esperto di siduri vi da un po' di più una migliore ricarica dei siduri specialmente se utilizzate poi siduri da 16.5 che hanno una ricarica molto lunga questa skill qua potrebbe essere molto utile quindi una di queste due direi e poi gli ultimi due punti sono per scarica di adrenalina assolutamente sui cassati penieri è molto utile perché se rimanete con 300 HP avete una buonissima di carica se avete un buon boost sulla di carica dei siduri che non è mai male quindi ripetiamo mutazione preventiva o versato prioritario ultimo atto esperto di sopravvivenza esperto di occultamento radiolocalizzazione o sovrintendente o esperto di siduri e scarica di adrenalina bandierine come sempre come sempre prendete le mimetiche sento sempre qualcuno che mi dice eh ma io la mimetica per questi tir qua non la uso perché lo voglio risparmiare no prendete la mimetica perché vi da un po' più di mimetismo che sui cassati penieri è fondamentale senza la mimetica avete 6.8 con la mimetica 6.6 non sembrerà tanto ma è meglio di niente ok quindi prendete sempre le mimetiche su tutte le navi non solo i cassati penieri tutte anche le corazzate poi bandierine velocità consumabili ricarica di consumabili migliorata perché per i fumi e per la sovralimentazione del motore e poi io ho anche messo questa qua che mi da una maggiore maggiore percentuale di una maggiore probabilità di causare una falle perché non è male vorrete anche prendere la bandierina della detonazione io non la metto perché ho il potenziamento che mi riduce molto il rischio non me lo azzera quindi in realtà dovrei imprendere questa per azzerare il rischio di detonazione se volete potete mettere anche quelle degli incendi se vi trovate a sparare parecchio il percentuale di incendio di questi cannoni è 5% con questi qua andreste a 6 se prendete anche il spazio di demolizione andate a 8 che comincia a essere una buona percentuale di incendio considerato il fatto che avete 4 secondi di ricarica sulle torrette principali quindi non è male l'antiaerea se volete mettetela ma tanto è inutile e se volete la bandina del ram per diventare l'ultimo il siluro finale in casi estremi prendetela ma insomma su un destroyer non è che faccia tutta sta gran differenza alla fin fine bene questo era il farragut ragazzi come sempre ancora una volta se non vi siete già iscriviti al canale per supportarmi come creatore di contenuti su youtube vi lascerò in descrizione il link al mio canale twitch e al mio server discord se volete fare un salto siete benvenuti lasciatemi un commento se volete lasciate un mi piace se vi è piaciuto il video condividetelo con i vostri amici e grazie ancora per la visione ci vediamo al prossimo video